Allora, la lista dei sottosegretari e dei viceministri che poi saranno nominati in un secondo momento, ve la leggo partendo dal Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha tre sottosegretari che sono Edmondo Cirielli, Giorgio Silli e Maria Tripodi. Assumerà l'incarico di viceministro Edmondo Cirielli. Il Ministro degli Interni ha tre sottosegretari che sono Emanuele Prisco, Vanda Ferro e Nicola Molteni. Il Ministro della Giustizia ha tre sottosegretari che sono Francesco Paolo Sisto che assumerà poi le funzioni di viceministro, Andrea Del Mastro delle Vedove e Andrea Ostellari. Il Ministro della Difesa ha due sottosegretari che sono Isabella Raudi e Matteo Perego. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha quattro sottosegretari che sono Maurizio Leo, il quale assumerà le funzioni di viceministro, Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha tre sottosegretari che sono Valentino Valentini che assumerà l'incarico di viceministro, Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci. Il Ministro della Sicurezza Energetica e dell'Ambiente ha due sottosegretari che sono Vanni Agava che assumerà le funzioni di viceministro e Claudio Barbaro. Il Ministero delle Politiche Agricole e della Sopranità Alimentare ha due sottosegretari che sono Patrizio Giacomo Lapietra e Luigi Teramo. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avrà Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami, entrambi viceministri, e Tullio Ferrante, sottosegretario. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà come sottosegretari Maria Teresa Bellucci, anche lei assumerà le funzioni di viceministro, e Claudio Durigon. Il Ministero dell'Istruzione ha come sottosegretario Paola Frassinetti, quello dell'Università della Ricerca Augusta Montaruli. Il Ministero della Cultura ha come sottosegretari Vittorio Sgarbi, Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi. Il Ministero della Salute ha come sottosegretario Marcello Gemmato e il Ministro dei Rapporti con il Parlamento avrà due sottosegretari che sono Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. Presso la Presidenza del Consiglio sono stati nominati anche Alessio Butti, che assume le funzioni di sottosegretario dell'Innovazione Tecnologica, la delega per intenderci che era del Ministro Colau, all'attuazione del programma di governo Giovanni Battista Fazzolari, all'editoria Alberto Baracchini e al coordinamento delle politiche economiche Alessandro Morelli. Queste sono le nomine dei sottosegretari che sono state fatte questa mattina. Nel prossimo Consiglio dei Ministri, del quale vi parlerò tra poco, ovviamente ci saranno anche le definizioni dei viceministri e sarà contestualmente anche la definizione delle deleghe dei ministeri che sono in preparazione e che verranno approvate nel prossimo Consiglio dei Ministri di questa settimana.